Soddisfazione da parte del direttore generale dell'ASPE di Agrigento, Salvatore Messina, per i risultati ottenuti, ma anche per i dati relativi ad uno studio dell'Agenas. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in base ad una serie di 54 parametri, colloca l'ASPE Agrigento 1 al primo posto tra le aziende sanitarie regionali. Si riguarda il risultato positivo della nostra performance, la bacchetta magica non c'è, si chiama lavoro di squadra, si chiama spirito di abnegazione e di sacrificio, si chiama lavorare per obiettivi, per raggiungere risultati. E sarà un 2014 ricco di novità per l'ASPE di Agrigento, mirati a dare alla sanità agrigentina maggiore qualità da offrire all'utenza. Nel 2014 dovrebbero essere attivati tutti i posti letto di riabilitazione che abbiamo in convenzione con la Maugeri, dovrebbero essere attivati tutti i posti letto che abbiamo solo parzialmente attivato all'interno delle nostre strutture di agrigento. Questo è dedicato per quanto riguarda la riabilitazione, dovrebbero partire i ricoveri di neurologia e altri servizi ancora che non vi anticipo.